Al via il calendario degli eventi Natale 2015 denominato Quannu di Unashiu, organizzato dal Comune di Gela in collaborazione con diverse associazioni presenti in città. Comincia dunque a respirarsi un felice clima natalizio all'insegna delle tradizioni con la forza evocativa soprattutto dei presepi che appartengono alla nostra storia. Sabato scorso è stata inaugurata presse Granai Ducali di Piazza Calvario la mostra di presepi Vita di Gesù dell'artista Francesco Bonvissuto, opere d'arte che resteranno esposte fino al 6 gennaio prossimo. La qualità delle figure, figure in movimento, anche delle scenografie che è riuscita a creare sono veramente notevoli e di grande qualità. E l'insieme, in modo di presentarli, con la preparazione anche del design, di come sono presentate, è veramente di altissima qualità. Di questo gli sono grato e mi ha convinto immediatamente perché gli ho detto facciamolo. E lui ci ha lavorato veramente con dedizione perché questa mostra doveva andare in un'altra città d'Italia e invece siamo riusciti a farla qui a Gela. Lo faremo sapere anche alle città vicine e speriamo che verranno anche qui loro a visitarla e la inseriremo come punto di partenza di un itinerario dei presepi che abbiamo scoperto essere tanti a Gela. E questa cosa, questo dei presepi, mi piace anche sottolineare un fatto. La polemica su qualcuno che vorrebbe addirittura eliminare il Natale dalla nostra tradizione, comunque la si pensa, laici, credenti e non credenti, questa fa parte della nostra storia. Non possiamo eliminarla, anzi dobbiamo valorizzarla e far comprendere a chi magari non ha questo retroterra che questo fa bene anche a chi non è credente, fa bene a tutti. Io giro per tutta l'Italia, quest'anno ho detto voglio a tutti i costi, essendo un gelese puro, nato e vissuto anche a Gela però per motivi di lavoro siamo fuori, però ho detto Gela quest'anno non si tocca. Ho avuto anche richieste da altre parti, due giorni prima mi avevano detto addirittura, dico anche il nome senza nessun problema, la città di Monza mi avevano chiesto di portarlo su e ho detto quest'anno no, il prossimo anno forse ci vediamo, ma intanto andiamo a Gela.